Potrebbe trovarsi in casa vostra, nello zaino di vostra figlia! Difidate dal diario di scuola ZO! Perché corrompe l'anima degli studenti con i suoi bigliettini. Accentrate il punto! Sarà la fine dell'istruzione! Non dare la colpa dei pezzettini di carta, la morte dell'istruzione è sulla coscienza di qualcun altro. Qual è il tuo problema? Scusa, come? Sto cercando di dissare scuola ZO per fare due spicci perché li difendi? Perché mi hanno fatto diventare ciò che tu non sarei mai. Un uomo con un sacco di capelli! È un diplomato! Esistono per davvero! È un diplomato! L'avete visto anche voi? Si è diplomato! È vero, è tutto vero! Hai sempre desiderato un diario in grado di tirar fuori il peggio di te? Perché noi ce l'abbiamo! Ed è bellissimo! Non fartelo scappare!